E' il momento della rubrica che realizziamo in collaborazione con il notaio Giorgio Amanzini. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora il notaio si è sentito spesso parlare in questi giorni, naturalmente faccio riferimento alla situazione politica, del fatto che il presidente Mattarella sarebbe un notaio. Infatti sono usciti questi titoli sui giornali con questa dichiarazione del presidente, non è stato il primo politico ad utilizzare questa terminologia. Il presidente non è un notaio. Il presidente non è un notaio, l'ha detto in occasione di un incontro in omaggio e commemorazione del presidente Luigi Einaudi per fare dei riferimenti alla situazione politica dell'epoca paragonata a quella attuale. Ha definito appunto la presidenza del presidente Luigi Einaudi come una presidenza tutt'altro che notarile. All'indomani da questa dichiarazione su tutti i giornali è uscito il titolo Il presidente non è un notaio, il che ha comportato una reazione, un certo malumore nei notai italiani. Tanto che a Torino due consiglieri del consiglio notarile hanno scritto una lettera aperta al presidente della Repubblica, nel massimo rispetto dell'istituzione, in cui hanno lamentato questa terminologia che li fa sentire sminuiti. E personalmente ho ricercato l'origine di questa terminologia. Non è la prima volta appunto che un politico afferma di non essere un notaio, quasi che quello del notaio fosse un ruolo passivo di mera certificazione e recepimento della volontà altrui senza nessuna discrezionalità. Senta notaio Manzini, ma quanti sono i notai in Italia? I notai in Italia sono circa 5.000. È un numero programmato in base alla popolazione. Si diventa notaio quando si è cittadini italiani. Ricordo che abbiamo già un notaio di origine cinese, cittadino italiano. Occorre essere in possesso della laurea in giurisprudenza in Italia, come in molti paesi europei. Occorre aver espletato il periodo di pratica notarile e aver superato il concorso notarile che si tiene a Roma ed è gestito dal Ministero della Giustizia. Non dal notariato, come erroneamente si crede. Il notariato collabora, ma è il Ministero della Giustizia che gestisce l'accesso alla professione. C'è una telefonata, il notaio la prendiamo da casa. Buongiorno. Buongiorno, l'ascoltiamo. Buongiorno. Mi dispiace di interrompere la sua descrizione della funzione del notaio, ma io ne approfitto anche. Chiedevo un'altra cosa. Praticamente una coppia in comunione dei beni, per motivazioni sue, vorrebbe cambiare in divisione dei beni. Cosa deve fare a chi deve affidarsi? Ecco signora, ottima domanda. Questa cosa succede spesso, che ci si sposa in chiesa e si sceglie, non si dice nulla, perché la comunione dei beni è un regime patrimoniale della famiglia automatico. Vale anche per gli uniti civili, un regime che si instaura quando non dici nulla. Quindi tu non scegli niente. La legge italiana, dopo la riforma del diritto di famiglia, quindi dal 1975, ci fa essere tutti noi coniugati in comunione dei beni, salvo che non si scelga appositamente, davanti al prete o davanti all'ufficiale dello Stato civile, la separazione dei beni. Se lo si fa al momento del matrimonio è naturalmente una scelta gratuita, perché riguarda appunto una scelta nella fase genetica del matrimonio. La signora non l'ha fatto, come tanti di noi, e quindi occorre successivamente recarsi dal notaio e stipulare una convenzione matrimoniale di separazione dei beni davanti ai testimoni, perché lo richiede la legge, con la forma dell'atto pubblico che verrà annotata in calce all'atto di matrimonio e questo sarà il regime di pubblicità. Dunque signora si deve rivolgere a un notaio per andare con suo marito a scegliere il regime della separazione dei beni. In questo modo i beni che avete acquistato in comunione legale saranno in comunione ordinaria, cioè la quota di un mezzo ciascuno dei coniugi potrà essere ceduta separatamente dall'altro coniuge, cosa che non è possibile durante la comunione legale. Notaio c'è un messaggio che invece ci riporta al nostro tema, quello appunto in generale della figura del notaio. Dice questo signore, ma mi viene da ridere questi notai e si sentono passivi, no? Non si sentono passivi. Mi fa molto piacere anche questo commento. Chi è stato dal notaio per esempio per acquistare o vendere casa, ha toccato con mano la complessità e il valore del lavoro del notaio. Il notaio di tipo latino, che è presente in 87 paesi del mondo, in 22 paesi dell'Unione Europea, è un sistema di notariato che si basa sulla civil law, cioè sulla norma scritta che prevale sul precedente giurisprudenziale, è comunque un notariato che è molto selettivo perché è di altissima specializzazione. Ci sono poi funzioni di certificazione che fanno sicuramente parte del nostro lavoro. Ecco, dalla mappa si vede quanto il notariato di tipo latino sia diffuso nel mondo. Perfino i cinesi hanno preso ripetuti contatti con il nostro consiglio nazionale del notariato per copiare il nostro sistema. Quindi questi sono i paesi, quelli in blu, dove è presente la figura del notaio? La figura del notaio di tipo latino, perché poi c'è un notaio che si chiama notary public di tipo anglosassone che è qualcosa di completamente diverso. Questi paesi in blu sono quelli in cui c'è la figura del notaio simile a quello in Italia? Brava, simile a quello in Italia. Negli Stati Uniti e in Inghilterra invece c'è un notaio che è un funzionario, si chiama notary public, che è un funzionario dello Stato che a questo sì ha meri poteri di certificazione e a questo si riferiscono i politici. La questione terminologica e questo malinteso nasce dal fatto che il notaio in altri paesi è veramente un mero certificatore, non deve essere neppure laureato, può fare un corso online per superare questo concorso statale e il sigillo e tutti gli strumenti di lavoro li deve acquistare e dunque è un sistema che si basa sulla common law che è completamente diverso dal nostro. La funzione è talmente diversa e minore come importanza giuridica che negli Stati Uniti è stato vietato a questi notari public di tradurre il termine in spagnolo che si dice notario pubblico perché questo generava confusione negli immigrati dal Messico e dai paesi dell'America Latina, vediamo che hanno tutti il notariato latino, che si rivolgevano a questi funzionari di livello medio-basso per avere i servizi che nel loro paese avrebbero avuto da questi giuristi altamente specializzati. Quindi il notaio insomma anche questo utilizzo del linguaggio improprio deriva probabilmente da questa situazione, è diverso negli altri paesi? Certo, negli altri paesi e comunque anche in Italia il notaio ha anche queste funzioni, chiamiamole minori di certificazione, sono minori perché l'apporto intellettuale è minore rispetto a ricevere un verbale di fusione trasfrontaliera, ma chi per esempio ha comprato una casa all'asta ha consegnato la busta con l'offerta nelle mani del notaio, il notaio è lì per verificare che tutta la procedura si svolga secondo la legalità. Il notaio, come il Presidente della Repubblica hanno affermato in questa lettera, è il garante della corretta applicazione dell'osservanza della Costituzione e della legge. Quindi insomma su questo ci sono dei punti in comune tra i notai e il Presidente della Repubblica. Così, è stato affermato, mutatis mutandis, però siamo tutti qui per affermare la legalità. E naturalmente, come dire, la cornice all'interno delle quali si svolge l'attività è quella delle leggi della Costituzione. E quella della Costituzione, diceva prima il direttore di regalare ai bambini la Costituzione cartacea. Questa è un'ottima idea. Io ho scoperto con grande stupore che nella scuola elementare pubblica la Costituzione viene già fatta leggere ai bambini, dalle maestre. Trovo che sì, ai nostri tempi non era così. Questo sicuramente è un grande vantaggio che danno ai bambini perché è un documento che è la base della nostra convivenza civile. Quindi prima ne entri a conoscenza, meglio è. Tra l'altro, soprattutto i primi articoli sono molto semplici anche da leggere nella loro naturalmente importanza, però insomma una lettura è adatta anche ai più piccoli. Notaio, quindi ci sono, abbiamo capito, molti stereotipi rispetto alla professione che è una professione, come avveniva una volta, anche molto maschile oppure è cambiato questo? Esatto, come tutte le professioni una volta era prevalentemente maschile perché i ruoli in famiglia erano diversi e quindi era questa la grande differenza come per i medici e gli altri professionisti. Quindi oggi possiamo dire che c'è una parità nel notariato fra maschi e femmine dovuto al fatto che la generazione, le generazioni precedenti sono prevalentemente maschili però nell'accesso alla professione sia nel notariato che anche in magistratura ora prevalgono le donne e quindi c'è una netta prevalenza, saranno più bravi a studiare forse più, è una casualità, indubbiamente è un tipo di studio che richiede molta concentrazione molta pazienza, molta determinazione perché può essere lungo, può durare anni e quindi il risultato è che la prevalenza è femminile. Senta notario, prima di chiudere questo spazio volevo tornare sulla mappa che ci ha fatto vedere prima i notai nel mondo e tra l'altro è anche molto interessante perché c'è la possibilità di trovare i notai, di avere tante informazioni. Sì, infatti il nostro sito, questo è un sito pubblico accessibile a tutti che si chiama notariato.it dove trovate sia i notai italiani, potete reperire tutti i dati se avete bisogno di un notaio, la signora di prima può guardare quali sono i notai di Reggio Emilia scegliere quello che preferisce, trovate gli organi istituzionali del notariato la funzione del notaio spiegata con un linguaggio semplice e chiaro in questo sito ci sono anche le guide per il cittadino perché noi, il notariato affronta i temi di attualità legislativa sempre con un certo anticipo e con molta puntualità elaboriamo queste guide che poi pubblichiamo su questo sito per esempio anche nella privacy entra domani in vigore il nuovo regolamento europeo che viene ad integrare la legge italiana sulla privacy del 2003, il regolamento del 2016 ma entra in vigore in tutti i paesi europei il 25 maggio 2018 ecco, i notai si sono già occupati profondamente delle innovazioni che porterà questo regolamento e quindi quando andrete dal notaio avrete una nuova informativa su tutta la materia della privacy che per certi aspetti è cambiata tra l'altro su questo di cui si è parlato anche in questi giorni al Parlamento europeo anche a proposito dei social media è un tema molto importante e se d'accordo notario potremo affrontare anche in una delle prossime puntate sì, molto volentieri perché l'abbiamo approfondito come notariato nel notariato la privacy assume un ruolo del tutto peculiare proprio perché l'atto notarile, il rogito, per sua natura deve restare immutato e immutabile nel tempo l'originale è intoccabile dal momento in cui è stipulato e quindi per esempio il diritto all'oblio nei confronti del notaio e dei dati personali detenuti dal notaio assume questa particolare caratteristica che se i tuoi dati personali cambiano nel tempo per esempio tu acquirente cambi la residenza il tuo rogito rimane comunque valido non deve essere modificato perché vale la residenza del momento della stipula e così per tanti altri aspetti della vita della persona tanti aspetti interessanti e importanti da approfondire lo faremo nelle prossime puntate certamente intanto grazie notaio per essere stata con noi quest'oggi l'appuntamento con lei giovedì prossimo grazie a tutti buongiorno grazie